Oggi parliamo di otto verbi e vediamo quali preposizioni reggono. Iniziamo subito! Ciao ciurma e bentornati sul canale! Oggi parliamo di otto verbi e vediamo quali preposizioni reggono. Il primo verbo che vediamo oggi è chiedere. Il verbo chiedere può reggere due preposizioni. Chiedere a oppure chiedere di. Chiedere a qualcuno qualcosa. Facciamo un esempio. Hai chiesto a Maria di passare di qui prima di andare al lavoro? Oppure chiedere di qualcuno. Maria come sta? Ti ha chiesto di me? Ecco questo ti ha chiesto di me significa Maria ti ha fatto qualche domanda su di me e si è informata? Il secondo verbo è continuare. Il verbo continuare regge la preposizione a seguita poi dal verbo all'infinito. Facciamo un esempio. Non ti fermare, continua a camminare. Continua a, a è la preposizione, camminare, il verbo coniugato all'infinito. Oppure continua a studiare, continua a giocare, continua a cantare e così via. Il terzo verbo è provare. Anche il verbo provare regge la preposizione a che poi verrà seguita da un verbo coniugato all'infinito. Facciamo subito un esempio. Prova a essere più gentile la prossima volta. Prova a, a è la preposizione e poi è seguita dal verbo essere coniugato appunto all'infinito. Prova a essere più gentile la prossima volta. Prova ad impegnarti di più. Prova ad andare a dormire prima se ti senti così stanco e così via. Il quarto verbo è decidere. Il verbo decidere regge la preposizione di che verrà poi seguita da un verbo coniugato all'infinito. Decidere di fare qualcosa. Vediamo subito un esempio. Maria ha deciso di iscriversi alla facoltà di medicina. Maria, soggetto, ha deciso, passato prossimo del verbo decidere, di, la preposizione, iscriversi. Iscriversi è un verbo riflessivo all'infinito. Il quinto verbo che vediamo oggi è abitare. Anche abitare regge due preposizioni. Abitare a più il nome di una città. Oppure abitare in più il nome di una nazione, di un paese. Facciamo subito i due esempi. Abito a Milano. Maria abita a Roma. Rebecca abita a New York. I miei nonni abitano a Parigi. Oppure abito in Italia. Maria abita in Francia. I miei nonni abitano in Portogallo. I miei zii abitano in Brasile. E così via. Il prossimo verbo è il verbo sapere. Il verbo sapere può reggere la preposizione di. E in questo caso ha il significato di essere consapevole di qualcosa. La preposizione di è seguita da un verbo all'infinito. Facciamo subito un esempio. Maria sa di essere molto intelligente e carismatica. Maria sa di essere molto intelligente e carismatica. Quindi con questa frase vogliamo dire che Maria è consapevole di essere molto intelligente e carismatica. Quindi sapere di più il verbo all'infinito significa essere consapevole di qualcosa. Il verbo sapere regge la preposizione di più il verbo all'infinito quando il soggetto della frase principale della frase secondaria è lo stesso. Se invece i due soggetti sono diversi quindi abbiamo un soggetto nella frase principale e un altro un soggetto diverso nella frase secondaria diremo so che Maria è molto intelligente e carismatica. Quindi utilizziamo la congiunzione che. Quindi so io soggetto so frase principale che la congiunzione Maria è molto intelligente e carismatica. Quindi abbiamo due soggetti io e Maria. Il settimo verbo di oggi è credere. Anche credere regge due preposizioni diverse e quindi assume due significati diversi. Credere a qualcuno o qualcosa e quindi significa prendere per vero qualcosa oppure qualcuno. Oppure abbiamo credere in qualcuno e quindi significa avere fiducia in qualcuno. Vediamo subito due esempi. Maria ha creduto a Matteo per anni. Maria per molti anni ha creduto a cosa Matteo le diceva, le raccontava. Quindi ecco perché utilizziamo la preposizione a e in questo caso significa che Maria ha dato per vero tutto quello che Matteo le ha detto. Oppure credo in te, ho fiducia in te. Oppure credo nella scienza, ho fiducia nella scienza e così via. Molto semplice. L'ultimo verbo che vediamo oggi è accorgersi. Questo è un verbo riflessivo e regge la preposizione di. Possiamo dire accorgersi di qualcuno o qualcosa quindi seguito da un sostantivo oppure accorgersi di e poi un verbo all'infinito. In questo caso di nuovo il soggetto della frase principale secondaria sarà lo stesso. Vediamo subito qualche esempio. Maria si è accorta subito del mio vestito sporco. Maria, soggetto, si è accorta del, quindi preposizione di più l'articolo il, del mio vestito. Maria si è accorta subito del mio vestito sporco. Si è accorta di qualcosa, ovvero del mio vestito sporco. Mi sono accorta di essere in ritardo e ho chiamato un taxi. Quindi se il soggetto è lo stesso utilizziamo il verbo accorgersi più la preposizione di e il verbo all'infinito. E questi erano otto verbi molto semplici e molto utilizzati. Abbiamo visto quali preposizioni reggono e fatto qualche esempio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete qualsiasi domanda, se avete qualsiasi dubbio, oppure se volete che io faccia un altro video parlando di altri verbi che reggono le preposizioni. Noi come sempre ci vediamo domenica prossima con un altro video. Ciao ciurma! Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Qui ti lascio un altro video utile per esercitare il tuo listening che spero possa esserti utile. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale e condividilo con i tuoi amici che stanno studiando l'italiano. Ciao e a presto!